GIOVANNI PEVETTI Il percorso oggi mi aiuta perché è abbastanza adatto alle mie caratteristiche e vediamo come verrà fuori la gara. Renzo Fortunato oggi cercherà di fare corsa dura per cogliere una importante vittoria in questa gara? Ma sì, le prime quattro corse sono state per fare la gamba, oggi c'è la prima corsa dura, poi via via si inizieranno corse nazionali e internazionali e oggi vedremo di fare il meglio che possiamo. GIOVANNI PEVETTI GIOVANNI PEVETTI GIOVANNI PEVETTI Tanti sacrifici, arrivi dalla Puglia, ci voleva una vittoria per rompere il ghiaccio verso una grande stagione che ti aspetta? Beh, ci voleva perché ho fatto un inverno molto sacrificato e oggi ero venuto con delle intenzioni positive. GIOVANNI PEVETTI C'è l'emozione, noi gli facciamo un applauso perché se lo merita... Grazie, grazie. GIOVANNI PEVETTI Quando hai attaccato pensavi di farcela, di arrivare all'arrivo o era troppo presto? No, pensavo di farcela. Pensavo di farcela. Determinazione, grinta non manca, noi ti seguiremo ancora. Rocco Fuggiano sbanca i colli marignanesi. Un pensiero, una dedica per questa tua prima vittoria stagionale? La dedico a tutto l'organico che c'è dietro la mia squadra, molto completo. Lo dedico a Michele Laddomada che è sempre dietro il mio pronto a darmi una mano e lo dedico anche a Paolo Colonna che è un professionista che abita a pochi chilometri da casa mia. Siamo al limite della commozione, altro applauso, veramente vittoria strameritata, dato spettacolo questo ragazzo che naturalmente tutti gli sportivi continueranno a seguire.